Sì o no? Non mi fido, quindi no. Ok. Cos'è? Un regalo. No, hai detto di no. Hai detto di no! Oh, ascolta, che ne so, non mi fai mai un regalo. No, hai detto di no! Non importa. Ma è vuota. Come il tuo cervello. Sì o no? Eh, sì. Bene. Ora chiami la nonna e dici che sei innamorato di lei. Allora, io da un po' di tempo che, cioè, non so come spiegarti, perché sei proprio una bella prugna secca, una bella topolona, poi quando ti vedo nel coro della chiesa cantare con le tue amiche, cioè, mi susciti che io mi sono innamorato di te, nonna. Ma caro, ma non sei proprio il mio tipo. Ma... Sì o no? Eh, sì, dai. Tieni. Cos'è? Le patatine. Grazie, anche se io preferisco il dolce, ma... Ok, ma come si apre? Ah! Guarda, ma stai scherzando, cioè, tu fai gli scherzi a me e gli spaventi tu.